Buonasera a tutti, sono Salvatore Papa, amministratore della Starlab Group. Siamo qui presenti al ProLights & Sound per il nostro stand StarLights, il nostro brand specializzato in effetti speciali. Abbiamo portato una serie di macchinari che sono stati da noi prodotti ideati, che sono indispensabili nel settore dell'intrattenimento. Presentiamo delle tute Cyborg per fare animazione e intrattenimento spettacolare, con laser e led, e abbiamo poi una linea sulla mia destra di macchine che servono appunto per fare effetti speciali sia in discoteca sia ambientali, effetto schiuma, effetto neve e spara criandoli. Un brevetto che presentiamo sempre qui in fiera è quello abbinato alla macchina Tecnofoam, che è il nostro Total Controller che ci permette di noleggiare macchine a costo zero. Praticamente forniamo la macchina ai nostri utilizzatori e gli facciamo pagare solamente le ricariche, quindi la macchina viene fornita appunto gratuitamente ed è una cosa molto interessante perché in questo momento fare investimenti importanti in attrezzature per le ditte può risultare leggermente difficoltoso, l'investimento lo fa la nostra azienda e loro ci pagano solamente tutto quello che è la ricarica per la macchina. ProLights & Sound 2013, prima edizione alla quale aderiamo, devo dire la verità siamo molto soddisfatti della lesione che abbiamo ricevuto, molti clienti dall'Eustropa e tutti molto interessati al design italiano che appunto abbiamo presentato con questa linea molto futuristica che noi abbiamo definito così avveneristica, che impiega la funzionalità ma soprattutto anche l'estetica dei macchinari, quindi l'abbinamento del LED e l'abbinamento della tecnologia di ultima generazione per avere degli effetti particolari ma sempre guardando anche un po' al design che è fondamentale in questo momento. Saluto a tutti e ringrazio la rivista Connessioni.